Ad ulterazione, contrabbando di prodotti alcolici e frode alimentare, la Guardia di Finanza di Napoli all'alba di stamane ha arrestato 12 persone, tre delle quali sono finite in carcere e nove domiciliari, in quanto ritenute parte di un sodalizio criminale con ramificazioni anche al di fuori della regione Campania. Dalle indagini è emerso che l'associazione a delinquere, composta da pluri pregiudicati e attiva tra le province di Napoli e Salerno, si era procacciata approfittando dell'emergenza Covid, ingenti quantitativi di alcol denaturato di illecita provenienza estera, utilizzando documenti di trasporto falsi per introdurre in Italia, in regime di contrabbando, un prodotto in apparenza destinato alla sanificazione. L'alcol in questione veniva invece impiegato per la realizzazione di bevande alcoliche adulterate all'interno di opifici clandestini ubicati a Sant'Antimo, Sarno e Pagani, dove avveniva anche la contraffazione del prodotto con tappi ed etichette falsificate. Le bevande venivano poi messe in commercio evadendo olive e l'accisa sui prodotti alcolici attraverso attività di vendita realizzate in favore di cantine, distillerie, grossisti e rivenditori al dettaglio, siti in Campania, Puglia e Calabria. Le analisi chimiche eseguite dagli ispettori ministeriali sulle bottiglie sequestrate hanno permesso di rilevare un titolo alcolometrico diverso da quello riportato nelle etichette e l'aggiunta di materie prime non idonee al consumo umano e pericolose per la salute in quanto solitamente destinate alla produzione di disinfettanti chimici. Riscontrate anche la falsificazione di bottiglie di champagne di noti marchi internazionali e la realizzazione e l'immissione in commercio di olio d'oliva non genuino. Sono scattati sequestri per oltre 10 milioni di euro che hanno riguardato alcolici contraffatti, prodotti agroalimentari adulterati e denaro riciclato.